786 casi su 5.142 tamponi processati, tasso di positività al 15,28%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 29 marzo. I contagi registrati dal report domenicale erano stati 1.788 su 9.473 test con tasso di positività al 18,8%. Il totale delle positività al coronavirus emersi in Puglia sale a 189.523, di cui 46.494 attualmente positivi, 138.303 guariti e 4.726 deceduti. 33, di cui 18 prevenienti dal Barese, 7 dal Foggiano e 2 a testa da Brindisino, Bat, Leccese e Tarantino, sono i nuovi decessi. 1.139 sono i nuovi guariti. Ben 62 sono i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore, con il totale che passa da 2.038 a 2.100. Calono da 4.000 44.842 a 44.394 i quarantenati. La metà del dato regionale del 29 marzo è costituita dai 350 nuovi casi emersi nel Barese. 74.413 il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. Numeri consistenti anche nel Foggiano, zona nella quale i nuovi positivi sono 176, con il totale che sale a 35.300. Numeri simili nel sud della Puglia. 99 sono i nuovi casi emersi nell'Eccese, 90 quelli del Brindisino. 17.608 il totale della zona salentina, 18.586 quello dell'area messapica. Dati più bassi nel Tarantino e nella Bat, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 43 e 28 casi. Il totale della zona ionica è ora 28.862, quello della provincia di Barletta-Andreatrani, 13.761. A chiudere il quadro un residente fuori regione. 1.845.068 il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.